buongiorno mara mussoni cancer coach oggi voglio parlare con te di autostima e perché è importante aumentare la propria autostima perché noi donne sappiamo benissimo quanto veniamo comunque da un contesto sociale da un retaggio culturale dove non c'è forse mai stata data grande importanza o perlomeno la donna diciamo che era adatta per certi tipi di lavori piuttosto che per certi tipi di mansioni ma magari per altri forse no quindi magari le nostre madri le nostre nonne hanno vissuto in generazioni comunque diverse rispetto alle nostre ma tutto quel bagaglio lì comunque ce lo portiamo addosso ce lo portiamo dietro e quindi oggi nel 2020 la donna comunque vive in un'era dove assolutamente i tempi sono cambiati dove comunque deve avere a che fare con la gestione della famiglia del lavoro delle relazioni eccetera eccetera ma molto spesso innanzitutto lei arriva sempre per ultimo cioè noi donne sostanzialmente siamo talmente dedicate agli altri che nella lista delle nostre priorità alla fine ci mettiamo sempre per ultimo e quindi così facendo cosa succede succede che la nostra autostima comunque ne risente perché perché alla fine noi facciamo corriamo ci adoperiamo contentiamo sempre gli altri ma alla fine non accontentiamo mai noi stesse è solo che per il concetto che nessuno può dare ciò che non ha se noi non ci occupiamo in prima persona di noi stesse rischiamo davvero di perdere di vista qual è la reale priorità perché vedete con la malattia comunque il messaggio io credo che sia chiaro la malattia ti dice di fermarti di riponderare magari le priorità di comprendere qual è il tempo anche che tu adesso ti devi dedicare e quindi è un rimettersi al centro è un riprendersi la propria vita nelle mani perché ripeto in tutto questo tempo l'autostima comunque ha subito colpi pesanti e quindi per riallineare per aumentare la propria autostima la donna deve iniziare a fare qualcosa per se stessa l'autostima si costruisce si costruisce passo passo con delle azioni quotidiane quindi qualsiasi cosa noi facciamo quotidianamente in realtà ci rimande indietro un messaggio intrinseco che o aumenta la nostra autostima oppure la bassa e quindi oggi ti voglio portare a portare davvero attenzione a che cosa fai per te qual è il tempo che ti dedichi perché molto spesso io lavorando con le donne mi rendo conto che non sono proprio abituate a dedicarsi del tempo magari lasciano diciamo le proprie attività le proprie passioni alla fine della serata oppure alla fine della settimana ma molto spesso comunque l'energia è scarsa o magari manca il tempo quindi è proprio un riprendersi in mano piano piano la propria vita quindi aumentare l'autostima ripeto è fatto di passaggi quindi riconoscere prima le proprie capacità le proprie abilità ripercorrere ad esempio anche i traguardi vissuti e superati nella vita avere un figlio avere una famiglia gestire magari dei genitori anziani non è mai scontato cioè non è magari è normale fra virgolette per noi perché siamo abituati a farlo ma perché magari le altre lo fanno oppure noi lo facciamo ciò non vuol dire che sia scontato perché magari ci sono tantissimi altri casi di persone che gestiscono fanno qualcosa di diverso quindi non è tanto elevarsi facendo dei paragoni è semplicemente riconoscere ciò che io ho fatto nella mia vita e che comunque ho superato e affrontato quindi guardare il passato con gli occhi del successo comunque riconoscere quei traguardi da lì riconosco ripeto le mie qualità le mie risorse che posso mettere in campo magari anche in un altro momento di difficoltà nella mia vita e fare un passo alla volta affinché quotidianamente io vado a riconfermare le mie abilità è un processo capisco che da soli non è sempre facile però magari farsi aiutare proprio per una costruzione della propria autostima è assolutamente necessario perché senza autostima noi non possiamo credere in noi stessi e se non crediamo in noi stessi io mi sono sempre chiesta perché dovrebbero fare gli altri ti invito a riflettere sulla tua autostima buona giornata